La felicità del mondo è cosa vana. La vera e sola letizia del cuore è fine oggetto caro e dolce a tutti ugualmente, a quelli che vivendo già perfettamente seguono Cristo e a quelli ancora che schiavi della vanità amano il mondo. Con questa differenza però, che dove i primi accertano la elezione prudente dei mezzi, i secondi erano turpemente e con grave loro danno. Qual è dunque la vera strada per giungere alla vera allegrezza? Prima vediamo qual via tengano i mondani. Io penso che per comune giudizio del mondo, ogni diletto, ogni allegrezza, consista in quei beni secolareschi enumerati già dal salmista, cioè il saper parlare bene delle cose del secolo e aver buona attitudine per condurle. Rapire o comperare gli onori e sotto un falso prezzo arricchire, gloriarsi nei floridi anni della prosperosa gioventù, stimare la bellezza del corpo, ornarlo, addobbarlo, quasi un tempio, aver pieni e ridondanti i granai, nutrir pingui e fecondi nelle stalle gli armenti, i poderi, i palazzi bene assetati e ben forniti di tutto punto. Non mai pianto, non lutto, non gemito, ma nel prospero corso della loro felicità non venire mai impediti d'avere una molestia di avversa fortuna. Queste sono le contentezze del mondo. Beatum dicerunt populum cui exunt. Ma lo spirito del profeta sa quanto sia falsa quest'opinione di beatitudine e perciò a comune disinganno songiunge tosto il suo giudizio. Beatus populus cuius dominus Deus eius. Ecco dove è la vera felicità, la vera allegrezza, nel riconoscere Dio per padrone, nel servire a Lui con fedeltà, nel vivere insomma secondo Dio. Questa sentenza è ripetuta nelle scritture.